Buongiorno, sono il professore Michalizzi Tommaso, professore di arte e insegno a Villa San Giovanni due ore in una seconda. È interessante il corso che stiamo facendo in modo che i ragazzi si immedesimano nell'arte con dei criteri che non sono solo la didattica frontale. Quindi per questo sono dei corsi sempre che sono utili per noi insegnanti ma anche da applicare poi ai vari studenti e alle varie classi. Grazie di tutto e buona giornata.